Musica Il 22% dei lecchesi ha ricevuto almeno una dose di vaccino, la nostra provincia a Quarta e Lombardia per somministrazioni. Intanto da lunedì si torna in zona gialla. E da lunedì ripartono anche le lezioni in presenza nelle scuole superiori. Varato un piano di ingressi scaionati, servizi di trasporto dedicato, ma resta alto il timore di contagi. Entro fine luglio l'inaugurazione dell'ex cinema Aquilone, completamente ristrutturato grazie al progetto della parrocchia di San Nicolò. I lecchesi sceglieranno il nuovo nome. Chiuso l'accesso al Vallo delle Mura, riscontrate dai tecnici comunali criticità strutturali e di sicurezza relative alla scala metallica e alla stessa cinta muraria. Presto nuovi rilievi. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco. Il 22% dei lecchesi ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La nostra provincia è quarta in Lombardia per percentuale di somministrazioni. Dai dati diffusi dalla regione, il quadro sulla campagna. Il comune con più vaccinati, Val Varrone. Poco più di un lecchese su cinque ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti-Covid. Online il portale regionale con i dati della campagna. Nella nostra provincia ha ricevuto l'iniezione il 22% della popolazione maggiorenne, ovvero 63.800 persone su un totale di 289.800. In 29.300 hanno già ricevuto entrambe le dosi, circa il 10% del totale. Lecco è quarta tra le province lombarde per numero di persone vaccinate almeno con una dose, dietro a Cremona, Sondrio e Pavia. Ma se Cremona spicca con quasi il 25% di vaccinati, la differenza con Sondrio e Pavia è di pochi decimali. Chiude la classifica a Mantova con il 18,7% di vaccinati. Analizzando i dati per singolo comune, non mancano le sorprese. Il paese con più vaccinati, parliamo sempre di prima dose, è Val Varrone con il 27,6%. Segue Bellano, che sicuramente ha beneficiato della presenza nel suo territorio di un centro vaccinale di prossimità. Ha ricevuto l'iniezione il 27,3% della popolazione. Seguono Olivetolario, 27,2% e poi il capoluogo Lecco, 27%, 11.200 prime dosi e 5.400 seconde dosi. In fondo alla classifica Pagnona, solo in 45 hanno ricevuto la prima dose il 14% degli abitanti. Numeri analoghi per Taceno, male anche con l'Ebrianza, 15,6% di vaccinati e Marnio 15,7%. A livello regionale, i comuni con più somministrazioni sono quelli che, a febbraio, erano stati inseriti prima di tutti in fascia rossa per il numero particolarmente elevato di contagi e al quale in seguito la regione ha dato priorità per la campagna. Sono Vigiu, nel Varesotto, con quasi il 70% della popolazione già vaccinata. Seguono Valgoglio, in provincia di Bergamo, con il 60% e Mede, nel Pavese, con il 53%. Aperte intanto la giovedì, in tarda sera, le prenotazioni anche per la fascia rietà 60-64 anni. A Palataurus i primi appuntamenti sono stati fissati tra due settimane. La notizia era nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata solo questo pomeriggio, dopo il monitoraggio. dell'Istituto Superiore di Sanità. Da lunedì la Lombardia è in zona gialla. Una conferma che aspettavamo, spiega il Presidente della Regione Fontana, visto che i dati, grazie all'impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto che sapremo non disperdere questa opportunità. Proprio il Governatore della Regione Lombardia, Tilio Fontana, come vedete in queste immagini, ha visitato nella giornata di oggi due centri vaccinali massivi finora attivi nella nostra provincia, vale a dire il Palataurus di Lecco e il centro di Tecnoprobe di Cernusco. Ho trovato una realtà eccellente il suo commento. Da lunedì ripartono le lezioni in presenza per gran parte degli studenti delle scuole superiori lecchesi. Varato un piano di ingressi scaionati e servizi di trasporto dedicato, anche se resta alto, il timore di contagi. Tutti o quasi a scuola. Da lunedì complice il ritorno della Lombardia in zona gialla. Inizieranno le lezioni in presenza per un massimo del 75% dagli studenti iscritti alle superiori. Già si fanno sentire le preoccupazioni. Con più di 40 classi in provincia di Lecco attualmente in quarantena, c'è chi teme un nuovo picco di contagi. I problemi poi si concentrano più che in classe negli spostamenti. Per questo motivo la prefettura ha varato un nuovo protocollo per limitare assembramenti e scaglionare gli ingressi. Su 100 studenti iscritti alle superiori, ogni giorno 25 faranno lezioni da casa. Gli altri si recheranno in classe con ingressi divisi in percentuali variabili, dalle 8 alle 9.40, in tutti i pressi, tranne che a Colico, dove per ragioni logistiche tutti invece inizieranno insieme alle 8. Il prefetto Castrese di Rosa ha sensibilizzato le forze dell'ordine a concorrere nei servizi di vigilanza e controllo con le polizie locali e i volontari di protezione civile per evitare assembramenti nei punti critici. Per venire inoltre incontro alle problematiche degli studenti che dal lago devono raggiungere il capoluogo, amplificate dal cantiere in corso allo svincolo di Abbadia, sono state aggiunte tre nuove fermate di treni a Mandello, una alle 8.48 verso Lecco e due rispettivamente alle 13.12 e alle 14.12 verso Sondrio. Resta però alto il timore per la diffusione di contagi. Gli autobus devono circolare con una campienza al 50%, spiega Andrea Frangiamore, segretario generale dei trasporti della CGL Lecco. Anche se gli ingressi di studentesse e studenti saranno scaglionati durante la giornata, è molto probabile che sarà superata la capienza dei mezzi con alto rischio di contagio fra gli utenti, ma anche con lavoratori e lavoratrici, considerato che autisti e controllori non sono ancora stati vaccinati. Grave incidente questo pomeriggio nella frazione di Maggiana a Mandello. Un ciclista si è schiantato contro un muro ed è stato soccorso in gravissime condizioni. L'uomo, un cinquantenne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Lecco. Soluzioni tecniche all'avanguardia, 140 posti a sedere, la gestione è possibile grazie al coinvolgimento di oltre 100 volontari. Entro fine luglio l'inaugurazione dell'ex cinema Quilone, completamente ristrutturato grazie al progetto della parrocchia di San Nicolò. Scegliere il nuovo nome saranno i lecchesi. Entro fine luglio il taglio del nastro, 140 posti a sedere per uno spazio polivalente che non sarà solo cinema. Quasi conclusi i lavori della nuova sala della comunità di Lecco, l'ex cinema Quilone di Via Parini. Un intervento da un milione di euro con contributi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Oltre 100 volontari dai 18 anni agli over 70 che hanno aderito al progetto della comunità pastorale Madonna del Rosario e si occuperanno della gestione della sala. Durante questi mesi della pandemia, questo anno abbondante, noi qui abbiamo lavorato per questa riapertura, una riapertura che ormai è prossima. Non abbiamo sprecato tempo, mentre tutto sembrava essere fermo, qui abbiamo progettato e immaginato il futuro. Ci siamo attrezzati affinché la ripartenza non fosse solo un fatto economico o della ripresa di ritmi normali di vita, ma la ripartenza fosse la ripartenza delle persone, dello spirito. E la cultura, tutto quello che faremo qui dentro, in questo cinema, sarà per la ripartenza dell'umano, per mettere in gioco la ricerca del senso, dell'essere al mondo, dello stare insieme. Intanto i chesi saranno chiamati a scegliere il nuovo nome di questo spazio. Sì, perché immaginiamo questa sala come un'offerta per tutti, per tutta la città, non semplicemente una proposta della parrocchia per la parrocchia. E come si fa quando c'è un nuovo venuto in una casa? Insieme si sceglie il nome. Quindi invitiamo le chesi a pensare un nome per questa sala e a sceglierlo. Tra 15 giorni sull'ecocentro.it metteremo online il form per scegliere il nome della sala. Tanti nomi saranno proposti, vi inviteremo a scegliere quello che più vi piace. La sala sarà dotata dei migliori comfort per lo spettatore e sarà dotata anche delle migliori tecnologie dal punto di vista tecnico per poter consentire una proiezione cinematografica all'altezza di qualsiasi altra sala presente nel mercato cinematografico nazionale. Avremo sulla proiezione una tipologia di proiezione 4K, che è lo standard che oggi viene utilizzato normalmente nelle sale cinematografiche. Che cosa manca ancora? Devono terminare sostanzialmente i lavori edili, che sono ormai quasi alla fine e poi inizieremo gli allestimenti della parte di arredi interne e della parte poi tecnologica. L'ultima sarà la parte tecnologica. Intanto si guarda già al futuro una nuova raccolta fondi per costruire un'arena all'esterno e per mettere le proiezioni all'aperto. Sono accusati di aver rapinato lo scorso 20 febbraio uno studente 18enne residente a Rogeno nei pressi di un centro commerciale della nostra città. Ne guai due fratelli tunisini residenti in città di 21 e 19 anni. Secondo l'accusa hanno aggredito insieme ad altri giovani il 18enne prendendolo a calci e pugni e derubandolo di 100 euro. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all'identità degli altri partecipanti all'aggressione. Chiuso l'accesso al Vallo delle Mura, quanto resta divisibile, della cinta muraria che Azzone Visconti fece costruire nel 1336 per fortificare l'Ecco. Seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, si è reso necessario vietare l'ingresso nell'area riscontrate delle criticità strutturali e di sicurezza relative alla scala metallica che porta al Prato e allo stesso muro medievale. Il sito di interesse storico, spiega il Comune, sarà oggetto di tutte le analisi necessarie alle quali seguirà la fase di individuazione degli interventi da realizzare anche in un'ottica di ripristino funzionale, di riqualificazione e valorizzazione del sito stesso importante patrimonio della città di Lecco e della sua storia. Il Tar della Lombardia ha annullato il provvedimento con il quale la provincia di Lecco ha autorizzato l'azienda Pozzistrada a realizzare un deposito di inerti all'interno dell'ex cava Rovelli. Ha chiuso una raccolta firme, era stata promossa a fine 2018 dai residenti del rione Lechese per chiedere al Comune di non concedere nulla osta necessario. L'amministrazione aveva dunque deciso in conferenza dei servizi di dire no al progetto ma la provincia aveva comunque dato il via libera nel maggio del 2020 alla realizzazione del deposito. Decisione contro il quale il Comune di Lecco aveva deciso di ricorrere al Tar. Il Tribunale Amministrativo ha accolto seppur parzialmente il ricorso annullando l'autorizzazione chiedendo agli enti una nuova valutazione. Lutto nel ciclismo lecchese scomparso a 52 anni di età Maurizio Radaelli residente a Garlate nel 1986 era stato campione mondiale di BMX. Lutto nello sport lecchese scomparso a 52 anni di età Maurizio Radaelli in gioventù campione mondiale di BMX sport delle due ruote in voga negli anni 80. Lascia la moglie e un figlio residente a Garlate Radaelli insieme ad altri atleti cresciuti grazie proprio alla pista di biciclette realizzata nel Comune alle porte di Lecco si era imposto nella disciplina ai mondiali di Riccione del 1986. Eccovi le immagini della sua affermazione dal nostro archivio. Anche l'amministrazione comunale di Garlate esprime vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Radaelli la giovane età di Maurizio si legge nella nota acquisce il dolore per la sua perdi. Quale gesto di estremo dono Radaelli ha donato i propri organi? Come fermare il surriscaldamento globale tassando la produzione di CO2 delle imprese ma riducendo le imposte sul lavoro? Questa è la proposta della grande campagna europea Stop Global Warming. Appello per Lecco ha chiesto al Comune di aderire. Appello per Lecco nella giornata internazionale della terra chiede al Comune capoluogo di aderire a Stop Global Warming. La campagna ideata da Marco Cappato, Monica Frassoni e altri attivisti si pone l'obiettivo di raccogliere un milione di firme e portare alla Commissione europea la richiesta di tassare le emissioni di CO2 per le aziende all'interno dell'Unione oltre che per la produzione delle merci che arrivano da fuori i confini europei. Tale richiesta, oltre ad avere come diretta conseguenza quella di disincentivare la produzione di CO2 diminuirebbe anche le tasse sul lavoro agendo su due fronti, quello ecologico sostenibile e quello economico lavorativo. Appello per Lecco tramite il consigliere Corrado Valsecchi ha chiesto al sindaco di Lecco durante l'ultimo consiglio di aderire come Comune a tale iniziativa promuovendola sul sito del Comune e incentivando la firma sul sito di Stop Global Warming.eu spiega Gaia Bolognini, portavoce di appello è un interesse di tutti ridurre le emissioni ma per farlo bisogna andare a toccare interessi particolari e simboli che rallentano e frenano questo processo dice Marco Cappato, attivista e fondatore del Movimento di Cittadini Europei sullo sviluppo sostenibile Humans un elemento che a mio avviso manca nel dibattito sul clima è quello della copertura dei costi della transizione ecologica al cittadino non è ancora chiaro cosa è possibile fare per colmare questo vuoto ecco perché la nostra proposta è esplicita perché sposteremmo le tasse del lavoro a quelle legate alle emissioni alla campagna hanno aderito in Italia già 60 primi cittadini tra i quali la sindaca di Roma, Virginia Raggi di Milano, Giuseppe Sala di Napoli, Luigi De Magistris di Bergamo, Giorgio Gori la campagna sarà attiva fino al 22 luglio oltre 3 milioni di euro per valorizzare e riscoprire gli itinerari a cavallo delle prealpi lecchesi Regione Lombardia vara un progetto di valorizzazione storico-culturale del nostro territorio 4 itinerari per valorizzare l'identità delle comunità che vivono nelle montagne lecchesi e per incrementare le opportunità delle economie locali attraverso il turismo la Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione fra Regione Lombardia e Comunità Montana della Vassassina per il recupero del primo lotto della viabilità storica e la valorizzazione delle comunità transorobiche un progetto per il quale sono stati messi a disposizione oltre 3 milioni di euro 4 itinerari scelti Legnoncino, Legnone, Stavello e Trona sono previsti interventi per la messa in sicurezza e l'adattamento dei collegamenti verrà utilizzata la viabilità esistente preferendo i percorsi storici e le mulattiere militari della Grande Guerra per un loro recupero storico e culturale le vie principali saranno poi connesse alle arterie secondarie con i punti tematici così da favorire l'accesso agli alpeggi alle strutture ricettive alle aree storico-minerali e militari un progetto, spiega Massimo Settori assessore regionale agli inti locali che andrà a intercettare turisti e visitatori permettendo una migliore fruizione dei luoghi anche attraverso servizi innovativi rivolti a quanti transitano lungo l'itinerario ponendo al centro dell'esperienza turistica la storia del territorio le peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali che hanno costruito un'identità condivisa e che proprio attraverso questa progettualità vengono salvaguardate e valorizzate recupero di questi quattro itinerari aggiunge Antonio Rossi sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport e all'Olimpia di 2026 si inserisce in un più ampio quadro di rilancio dell'intera area che punta ad aumentare l'attrattività sia a livello nazionale sia internazionale non dimenticate che potete seguire le nostre news sul nostro sito teleunica.com e sui canali social di Unica grazie per essere stati con noi buona serata grazie per la visione